Le statistiche dicono che se la Juventus avesse giocato soltanto i secondi tempi sarebbe prima in classifica davanti al Napoli. Io credo di sapere il motivo. Semplice, perché nel primo tempo la Juve non gioca. Vuoi perché sbaglia le formazioni allegri mettendo in campo giocatori che sono assolutamente imbarazzanti. Questa sera Mieretti e Locatelli quando li ha tolti ho festeggiato perché invocavo la loro uscita da almeno un quarto d'ora a 20 minuti. Sono stati veramente imbarazzanti. Mieretti deve essere stato morsiegato da un bravipo perché ci mette 12 ore per decidere a chiedere il pallone per tirare e per stoppare. E Locatelli non ne ha veramente imbroccata una. Penso che sia stata una delle peggiori partite di Locatelli da quando l'abbiamo comprato. Detto che quest'anno Locatelli non mi sta assolutamente piacendo e che secondo me sono venuti fuori i suoi veri limiti da giocatore non da Juve a mio modo di vedere. Bravo giocatore ma da Sassuolo, da Sampdoria, da Torino, non da Juventus a mio modo di vedere. Comunque al di là delle statistiche, al di là del fatto che noi nel secondo tempo siamo una squadra che segna di più e che mette a posto le partite, è una sofferenza vedere a giocare la Juventus. È una sofferenza. Portiamo a casa i punti, tanta roba, non abbiamo a posto gol, tanta roba, sono contentissimo, ci mancherebbe altro. La mia non è una polemica. Però è un dato di fatto. Questa Juve si fa palleggiare in faccia da tutte le squadre che vengono a Torino o andiamo a casa di qualcun altro e ci palleggiano in faccia. Io sto proiettandomi idealmente avanti di sei giorni a Napoli. Venerdì sera giocheremo a Napoli. Ora io mi domando e dico, secondo voi in Napoli che ha una proprietà di palleggio e di precisione di passaggi che è impressionante. È la squadra che fa più passaggi e ha maggior precisione appunto nei palleggi. Secondo voi riusciremo ad arrivare alla fine del primo tempo 0-0? Me lo auguro perché sicuramente la Juve con questo sistema di gioco non può pretendere di vincere le partite 2-3 a 0. Noi ci aspettiamo questo, ci aspettavamo un 2-3 a 0 a Cremona, ci aspettavamo un 2-3 a 0 a Clodinese. Invece vinciamo di cortomuso come dice il nostro tecnico. Perché? Perché la Juventus non gioca mai con le due punte. Ora io posso capire che a Napoli vai protetto e riparti in contropiede magari di castighi. Ci può anche stare perché un pareggio alla Juve può andare bene perché se domani sera la Sampdoria ferma a Napoli abbiamo rosicchiato altri punti a Napoli che è una roba che uno non ci caderebbe neanche. Se pensate che in questo momento siamo a 4 punti del Napoli, è chiaro che il Napoli domani sera vincerà a Genova, su questo non ci piova. Però sarà del calcio, la palla rotonda. Però, signori, con l'Udinese e con la Cremonese devi giocare con due punte. Non puoi giocare con una punta. E poi si vede la sterilità d'attacco. È vero, centrocampisti imbarazzanti perché sia McKennie che Mieretti che Locatelli questa sera non sono esistiti. Ennesima volta migliore in campo tra centrocampisti e Rabiot che sta crescendo in maniera esponenziale. Anche stasera è uno dei migliori in campo. E sono molto, molto felice perché quando la Juve prese Rabiot, quando l'ho presa, io ero contento quando l'ho presa quattro anni fa. Poi però mi deluse profondamente. Ed è tipico di quando hai un amore che ti delude e poi dopo ovviamente non gliene fai passare neanche una. Quindi se Rabiot è questo, se Rabiot è questo e continuerà a crescere, io sono molto fiducioso. Però Fagioli, lo vedi che quando è in campo cambia il gioco, lo vedi che cambia il gioco. Allegri, lascia stare Mieretti. Lo metti in campo magari in Coppa Italia col Monza, oppure magari le partite in cui la Juve magari vince 2-0, se un giorno non capiterà mai, lo metti in campo e gli fai fare mezz'oretta. Ma Mieretti non è uno che è pronto per giocare titolare nella Juve perché fa troppi errori, è troppo lento, è lezioso, tiene troppo la palla. Quindi, ripeto, la Juventus è la squadra che sarebbe prima in classifica nei secondi tempi perché nei secondi tempi alla fine vengono in campo i giocatori giusti. Lo dico nelle pagelle, ma lo voglio anticipare anche nell'analisi. Paredes è un giocatore che è indolente, ma Paredes è un giocatore che sa giocare a calcio. L'azione del gol è nata da un fraseggio fra lui e Chiesa. Lui che ha messo una palla meravigliosa in mezzo all'area, Chiesa che ha fatto un capolavoro di stop, di petto e palla filtrante a lungolinea per Danilo che accorre e la partita viene vinta. Quindi, meno male, gol su azione perché se no, se non avessimo fatto gol questa sera noi avremmo dovuto archiviare le prime due partite di gennaio con un gol su punizione, zero su azione. Sarebbe stato veramente triste. Allora, dire che la Juventus mi sia piaciuta sarebbe eccessivo. Sarebbe eccessivo perché io vedo giocare l'Udinese e dico cavolo come giocano bene. Vedo giocare la Cremonese e dico cavolo come giocano bene. Vedo giocare il Napoli e dico cavolo come giocano bene. Vorrei poterlo dire anche della Juventus. Temo che finché ci sarà in panchina questo allenatore non ci riusciremo. È anche vero che però lui, lo ha dimostrato nel tempo, è molto bravo, su questo non ci piove, è molto bravo a curare la fase difensiva. Non a caso, quando c'è due la Juve, a parte l'anno scorso che è stato un anno anomalo, ma per tanti motivi, la Juve ha sempre la migliore difesa italiana e tra le migliori d'Europa. Però, signori belli, questo può andare bene per il campionato italiano, perché se tu hai la migliore difesa spesso vinci lo scudetto, ma devi avere anche una squadra che è propositiva, che segna perché in Europa, se no fai le figure grame che abbiamo fatto in Champions League e vai fuori. Stessa cosa vale per l'Europa League. Non è che vengono a Torino per guardarti, ti attaccano, oppure quando vai fuori casa ti aspettano, no, ti attaccano. E quindi la Juve deve migliorare molto, molto la fase propositiva e la fase conclusiva. Troppi errori sottomisura, passaggi sbagliati, qui non è solo colpa d'Allegri, qui non è solo colpa d'Allegri, qui è colpa anche di giocatori che secondo me hanno troppa frenesia, perché non possono essere scarsi. Io non posso credere che Locatelli sia diventato scarso, che Miretti sia diventato scarso, che, cioè, scarso se l'abbiamo, no, quello lì che oggi ha girato per il campo per i cazzi suoi. Cioè, io non lo so, Vecchemi, cosa ci vede Allegri. Non fa dinamismo, corre, non preoccupa palloni, sbaglia i passaggi, meglio dell'altra volta, meglio dell'altra volta, però non è che voglio dire, cioè, io meccani in campo come giocare in dieci. Comunque, buoni tre punti per l'ennesima volta, abbiamo iniziato calcisticamente l'anno come meglio non si poteva, ma prima di dare spazio alle mie pagelle, voglio, infatti mi sto già commuovendo. Voglio ringraziare Gianluca Pessotto per le parole meravigliose che ha detto prima della partita. Io non ho fatto il video su Gianluca Vialli, perché sapete che l'ho conosciuto, ho avuto il piacere per poco tempo, ma ho giocato nella Cremonese di giovani in primavera con lui e mi ha fatto anche i complimenti per come giocavo e questi mi ritengo nel mio cuore per me stretti, 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 stretti e nessuno me li porterà mai via. Io voglio soltanto dire che uomini come Gianluca Vialli e soprattutto calciatori come Gianluca Vialli sono la fortuna di chi li possiede. Ha fatto la fortuna della Cremonese, ha fatto la fortuna della Sampedoria, ha fatto la fortuna della Juventus e ha fatto la fortuna del Chelsea. Se il Chelsea è diventato una grande squadra, molto del merito è stato suo. Se la Juve è diventata una grande squadra e ha vinto anche la Champions League, il merito è stato molto suo. Se la Sampdoria ha vinto lo Scudetto e è andato in finale di Champions League, molto del merito è stato suo. Se la Cremonese è assurda a squadra di rivelazione e è venuta in Serie A, molto del merito era suo. Gianluca Vialli era un grande giocatore, un grande uomo, un grande in tutti i sensi. Quindi io gli mando un bacio dal profondo del cuore e gli dico, lui se mi sente sa cosa vuol dire. Grazie per avermi detto che avevo la calamita nei piedi. Tu sai cosa vuol dire Gianluca. Grazie di cuore.